Cetti, ti distrugge la palma, Tiago. Che bella la sdraietta di Cetti, ma sei troppo carina. Buona domenica a tutti. Ciao, Mati. Guarda che bella, Cettina, la nostra gattina di sabile sulla amaca. Ora, vamos alla playa. Che carina. Cetti. Tu non devi scrivere così, Mati. Scrivetemi in privato. Devi scrivere. Scrivete in privato al numero 3288678066. A me devono scrivere tesoro, non a te. Scrivete. Scrivete.